e allora come che ti chiami? Anna Rosa come che ti chiami? Anna Rosa Anna Rosa? Anna Rosa cioè da dove viene il nome praticamente? la nonna materna si chiamava Anna e la nonna paterna Rosa ah la nonna paterna si chiamava Rosa si e invece tu come ti chiami? io mi chiamo Nino ah Nino il diminutivo di cosa? no non è il diminutivo di niente praticamente io sono andato sopra l'ambulanza e mentre l'ambulanza correva girava la sirene faceva Nino 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 e mi hanno dato il nome Nino la vita la vita è una dosa è lì